Allora, cominciamo con l'esercizio 19 della pagina 110, con la forma dell'imperativo, cominciamo con questo imperativo irregolare. Allora, Calu, dimmi tu la numero uno. Ai, non so se sta bene. Luisa, dai lì ai bambini di non... No. Dili. Ok, però se non... ricordati che noi abbiamo il digli solo se abbiamo qualcosa del gli. Ti ricordi che il pronome è per non ripetere? Sì. Ma non abbiamo detto niente prima, allora non dobbiamo non ripetere niente, allora il gli non lo usiamo, diciamo solo di. Ah, e lo tenia e lo cambié, perché pensé che il gli era a ellos. Exacto. Poniendoli gli era a ellos. Sì, però se non hai detto ai bambini... Entendo. Prima? Sì? Si capisce? Sì, entendo. Esatto. Ok. Ingrid, dimmi tu la due. Angela, anda da tua madre, ti spetta, no? No, 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 no. Ti ricordi? La settimana scorsa abbiamo visto l'imperativo irregolare. Allora andare è un imperativo irregolare. non è la regola normale. Come sarebbe, Sofia? Come sarebbe la due? Sì? Angela, va da tua madre, ti aspetta. Esatto. Angela, va da tua madre, ti aspetta. Doppi a ti, aspetta. Calù, dimmi tu la tre. Rosa, per favore, dammi una mano, dammi una mano, dammi una... Non è dammi perché... Da, 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 sì, lo corrijo. Lo teniamo tutto così. Da una mano a tuo fratello. Esatto, perché se a tuo fratello non è a me. Sì. Semplicemente da una mano a tuo fratello. Allora, Ingrid, da quattro. Ragazzi, avere... No, avere... Ah, fiducia in me? No. No, 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 no. Solo una mano a... Hai visto la materia? La escuché il otro día, solamente. Ah, devi un po' ripasarla, un po' studiarla. Sì. Sofìa, tu che cosa hai fatto? Ragazzi, Abbi, fiducia in me? Abbi è tu. Tu Abbi, però sto parlando di voi. Voi ragazzi. 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 Calù, tu che cosa hai scritto? Io puse, non so se sta bene. Ragazzi hanno fiducia in me. No, loro hanno, al presente. Loro hanno, perché i ragazzi sono loro, no? No, io sto parlando di voi ragazzi. Ah, sto dicendo, Chicos, tengan confianza in me. Voi. Ustedes. Abbiate. 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 Oh. Ah, sì. Abbiate. Bene. Sofìa, dimmila 5 per favore. Antonella, sta un po' ferma. Perfetto. Antonella, sta un po' ferma. Sta. Sta. Perdonate, sta. Sta. Perché non parli di qualcosa? Perché non parli di qualcosa? Di. Di qualcosa. Perché non parli? Di qualcosa. Qualcosa. Sai perché? Perché è corretto, però se non freni, se non ti fermi nella... Significa, se tu dici perché non parli di qualcosa, è perché non parli di qualcosa. Di qualcosa. Mi faltò la prima. Exacto. La vírgola. La vírgola, se non non si capisce. Bene. Sofìa. Oh, otra vez la mia. Gino. Abbi pacienza. Andrà tutto bene. Adesso sì. Adesso sì. Adesso sì, perché Gino, tu. Ya, ora sì, sì, sì. Abbiate. Lo scrivi pessimo, se abbiate io. Por Dio. Gino, abbi pazienza. Andrà tutto bene. Mi trovo in una situazione difficile. Mi trovo in una situazione difficile. Fa qualcosa. Aiutami. Allora, questi erano tutti, 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 imperativo, irregolare. Solo tenia male il 4, che era plurale. Esatto. Brava, brava. Allora, nel secondo esercizio abbiamo sempre l'imperativo, però adesso sì che abbiamo l'imperativo con il pronome. Adesso sì, adesso sì che dobbiamo fare la combinazione. Allora, se dice dirmi, significa dire a me. E per quello io dicevo che se tu dire a me sarebbe di più mi. E che cosa facevamo? Doppia e. Mettiamo insieme e doppia consonante. Dimmi. E lo dobbiamo fare con tutti. Ovviamente qua dice quale sarà il pronome. Ci, mi, mi, ci, che dentro tutto è semplice. Ok? Allora, non so, Ingrid, se hai questa parte. No, non lo so. Ok. Allora, Sofia, dimmi tu la numero uno. Ok. Paolo, dammi una mano a finire questo lavoro. Eh, però, occhio. Quando dice darmi, dice darci. A noi. Scusate. Eh, darci, entonces. Paolo. Paolo. No, non è lo stesso. Darci, no. So, Calu, che cosa hai scritto tu? Io, da, eh, io también lo puse dammi. Eh, eh. Lo, también lo tengo así, dammi. Facciamo, facciamo l'esercizio completo. Se io dico, qua dice darci, darci, darci. Quello significa dare a noi. Vero? Il ci è a noi. Bra. Si, e chi, chi deve dare? Paolo, che io sto parlando direttamente con Paolo. Allora, è tu. Tu a noi. Allora, come è l'imperativo di dare al tu? Dici. No, dare, non dire. No, dare, non dire. Qual è l'imperativo di dare, tu? Eh, da. Da. Daci. E aggiungiamo un ci. Che cosa facciamo? Mettiamo tutto insieme. Doppia consonante. Daci. Ah, no, è vigni, daci. Dare, dar. No, era. Daci. No, me sonava nada eso. Daci. Daci, io lo confundi con darmi. Nada che verbo. Dar, dar, dar e dame. Non ti sono con mi. Non si vedete. Si. Al ci sono con mi, al ci sono con ci. Bene. Sofìa, dimmi tu la tua. Ui. Farmi. Credo che non. Far vedere quanto sei bravo in matemattica. E il pronome? Farmi. 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 Ah, già, 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 già entendi. Me pare. Farmi vedere quanto sei bravo in matemattica. Farmi. Farmi. Salud. Ah, ti prego, stami a sentire. È una cosa seria. Exacto. Ti prego, stami a sentire. Ah, escúchame. È una cosa seria. Un segundito ma irrazonale che. Tu congo con alergia. Vengo qui. Allora. 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 la settimana passata, solamente lo escuche io tratté di scrivere un po' in il quaderno però è un po' cacci però è difficile è come quando nel colegio haciano gli analisi di frasi in la pagina 162 numero 5 di all'inizio mi guia un po' però non la chuntea perché, claro, quando cambia lo plurali, ahi, già mi enredo bene continuiamo Sofia, dimmila 4 Elsa, dille che cosa hai a chi oh, già, mi equivoqué oh dici 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 calù far 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 no facci sentire l'ultimo facci 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 sentire facci sentire l'ultimo cd di nec Sofia dammi almeno i soldi che ti ho prestato perfetto dammi almeno i soldi che ti ho prestato calù dimmi come sono andate le cose esatto dimmi come sono andate le cose e Sofia l'ultima ieri sono andato io al supermercato oggi facci tu perfetto facci ai non lo borre che lo voy a arreglar che lo tenia con grassito por favore si si dammi dimmi 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 bacci ok voy ya il facci era con dobles chi doppia chi doppia facci lo studimo stammar calumite no algo pudimo algo lo sentiamo e l'ultima e l'ultima è già con le preposizioni non è una cosa di le preposizioni sono difficili sempre però almeno non è una cosa del non è difficile non è difficile è difficile wow io credo a lo peccato le tengo tutte male solo le preposizioni semplice non le articolata ah non lo so de eso depende ai no non se dammi un segundino che se me quedo pegato spero che non tenga tantas no no Bene. Bene, allora... Calù? Mamma, non ti preoccupare, come di solito tornerò prima di mezzanotte. Come al solito tornerò prima di mezzanotte. Come di solito, può essere? No, di solito quando lo usiamo all'inizio della frase. Di solito torno prima di mezzanotte, però quando dici come, diciamo come al solito. Ah, già, malo. Però la idea era abbastanza correcta. Era, chiaro, perché tenia la idea di solito, perché lo abbiamo usato. Abbiamo usato mille volti, sì. Di solito, però sempre diciamo come al solito. Ciao, Anna Maria, buongiorno. Allora le toco a Anna Maria, tutte le toco a Anna Maria, tutte le toco a Anna Maria, per favore. Sì. 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 Ingrid, hai tu questa parte? Ingrid? Al andare? In vacanza? No. No. Dal vacanza? Nel vacanza? No, 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 il problema non è vacanza, infatti, in è il corretto. Però è la prima. no, no se, la prima non la c'è io ho avuto al andare in vacanza no, no, Ana Maria micrófono Ana Maria mi titula due, per favore Ana Maria Marrete? oggi sei l'unica ah, per andare in vacanza per andare in vacanza e poi? per andare in vacanza dobbiamo mettere una parte dai soldi no, per andare in vacanza dobbiamo mettere una una parte di soldi Ana Maria, una non è neanche una preposizione è un articolo ah, dobbiamo mettere calù? oh, io tambien ho avuto una mettere mettere da parte dai soldi da parte? che è mettere da parte? guardar poner a parte guardar ahorrar mettere da parte per in per in da teni toda la razzon sta ponendo qualche cosa da parte o sea, è apartare una parte dei soldi bene Sofia, dimmila tre Marcello ha comprato una macchina di seconda mano a un suo amico ma non è per niente contento di questa sua scelta perfetto Marcello ha comprato una macchina di seconda mano a un suo amico ma non è per niente contento di questa sua scelta bene Anna Maria con di non puoi aspettare tutto di al per ogni tanto devi fare qualcosa Silvia non puoi aspettare tutto dai altri dai no di altri da è corretto però non è i altri qual è il dalla da i spero che non è da i altri no, perché non è i altri se la parola comincia con un vocale non è i altri non puoi aspettare tutto d'altri no no, non lo so quale è l'articolo da no, l'articolo quale è l'articolo lì lì da lì al ah, lì se altro che è singolare dall'altro siamo la l con l'apostrofo l'altro per il plurale è gli altri claro allora dagli altri ah dagli altri non puoi aspettare tutto dagli altri vai poi ogni tanto devi fare qualcosa da solo esatto non puoi aspettare tutto dagli altri ogni tanto devi fare qualcosa da solo la sua camera nel letto è molto grande è molto grande no ingrid la sua camera da letto è molto grande la sua camera da letto è molto grande da letto il dormitorio in italiano è camera da letto voy a abrir la porta sto con maestro vado o torno la sua camera da letto i nomi delle camere della casa ricordate camera da letto camera da pranzo camera da camera da letto camera sopia non sono sicuro di avere con me tanti soldi perfetto non sono sicuro di avere con me tanti soldi calù se proprio vuoi possiamo fermarci al prossimo autogrill per fare benzina e mangiare qualcosa super se proprio vuoi possiamo fermarci al prossimo autogrill per fare benzina e mangiare qualcosa fare benzina noi diciamo poner benzina in italiano usiamo il verbo fare la benzina si fa bene ingrid l'ultima se arrivere prima con me no 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 perché è l'ultima 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 si arriverai prima di me no si si prima di me prenotami una stanza a cato di tua no questi sono gli avverbi di posizionamento si e l'altro è un avverbio di tempo allora ricordate sempre abbiamo alcune combinazioni che si ripetono sempre costantemente si sono preposizioni che vanno sempre con la stessa parola allora prima di antes de sempre sarà prima di e la parola accanto che noi diciamo al lado de in italiano è accanto a sempre accanto a però non è qua non è accanto a tua è accanto è accanto alla tua accanto usa sempre accantoa prima prima io lo io lo hice solo per ricordare due cancione in italiano no esa esa es la idea si al final cuando nosotros escuchamos canciones vemos películas leemos algún artículo se van quedando esas cosas perché perché borraron sono sicuro di avere con 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 me muchas veces son las combinaciones se repiten las preposiciones como les decía tengo palabras que siempre usan la misma preposición verbos que siempre usan la misma preposición entonces al final eso ayuda mucho las canciones sì al canto a te siempre salen las canciones exacto fare benzina es una expresión fija ¿cierto? sì echar benzina sì el fare lo usan para mucho fare la docha fare la espesa mi dispiace ma sono con i maestri si dice sì ok bene allora torniamo al libro la pagina 162 no il libro normale pagina 162 162 162 sì 162 siamo arrivati fino al 162 3 sì abbiamo visto i pronomi abbiamo fatto questo esercizio vero sì io lo ho sentito anche questo lo abbiamo fatto sì sì pagina 162 perdón voglio salire un secondo questo esercizio questo esercizio indicazioni stradali lo abbiamo fatto ah sì 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 vero sì lo diciamo ascoltamo ascoltamo no lo abbiamo ascoltato la settimana scorsa questo esercizio bene ma questo non lo abbiamo fatto come arriva no io ho inviato e no non vi ho inviato niente aspettate un secondo che sto vedendo perché non so perché ho scritto un'altra cosa ah sì ho inviato studiato un po' no le indicazioni stradali le preposizioni di luogo sì le cose che vi ho inviato la settimana scorsa le avete letto un po' un po' un po' e le altre Sofia Ingrid avete letto sì la lei la fotocoppie la dare indicazioni stradali perfetto bene allora aspettiamo Calù perché dobbiamo fare un esercizio che si fa a coppie lo dovete fare a coppie allora farò due gruppi intanto creo i gruppi bene allora che cosa dovete fare avete nella pagina 164 abbiamo una cartina un mapa una cartina di Roma ok allora abbiamo diversi punti punto numero uno Fontana di Trevi punto numero due la piazza del Quirinale tre piazza della pilota eccetera ok allora voi che cosa dovete fare dovete fare dei dialoghi piccoli corti allora per esempio dialogo numero uno io sono nella Fontana di Trevi e devo andare alla piazza del Quirinale immaginate immaginate io sono con Anna Maria e io dico scusi signora ricordate sempre con molta educazione con molta amabilità scusi signora mi potrebbe dire come arrivare alla piazza del Quirinale allora la signora mi risponderà tutto il percorso che dobbiamo fare ok allora quello per ogni punto la domanda come si arriva è la risposta del percorso che dobbiamo fare e lo dovete fare con tutte le con tutte le forme A B C D E F usando ovviamente la cartina ok allora vi ho vi ho separato in due gruppi perché questo si fa a coppie e adesso dovete fare l'esercizio vi darò più o meno 15 minuti e vediamo se avete bisogno di più tempo ok si capisce che cosa dovete fare tutti tutti le 7 si ma è corto è una cosa corta non è che dovete fare un mega dialogo è semplicemente chiedere come si arriva è spiegare come si arriva bene sicure avete domande avete dubbi no bene va allora vi separerò nei gruppi perdone ok ore 20 po ore Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. E ora, del 4, quindi, siamo in Palacio Colonia, no? Sì. Sì. Camina sempre dritto, sempre dritto. Camina sempre dritto, per via Palacio Colonia. Per via Palazzo Colonia. Ah, Colonna, claro. Colonna, con 2 N, Colonna. Sempre dritto, ya. Per, per quanta quadra? Gira, a donde gira? Gira. Gira a destra? O no, a donde, como seguimos para llegar a la plaza? Yo diría, yo diría que siga y que pase, y que pase uno, dos, dos cuadras. Ah, tienes razón. Sì, eso lo vimos en la plaza anterior, son una, due cuadra. Espérate, eran... La estrada es la calle, no, ¿cierto? La calle, sí. Y las cuadras son... Y en la terza cuadra, no, ¿cuántas cuadras son? Derecho. Derecho y uno, due. En la terza cuadra. En la terza cuadra. En la terza cuadra. Sí, en la terza cuadra, ¿está bien? Sí, pero se pone E-I-N. A ver, espérate, en la terza... ¿Cómo era? En la tercera... Terza cuadra. Gira. A destra. Gira. Aquí, ¿a dónde gira? Tercera cuadra, a ver, espérate, ¿cómo es tercera cuadra? ¿Está bien? Sí. Sé que es terza, pero cuadra... Terza cuadra, estrada. Estrada. La estrada era la calle. Terza... Estrada. Entra, estrada. Ya. Estrada. Terza estrada, tira de estra. Terza con Z. Terza estrada. Tercera. Gira a que ahora... Gira a la... Pero tendría que caminar ahí una cuadra. La tercera. Gira a la destra. Y camina una cuadra más y ahí está la piazza. A ver, no, pues, a ver, va derecho por Colacio Colonia, camina una, dos, en la terza cuadra, dobla a la, ahí va caminando, dobla a la destra y ahí la encuentra. Dobla a la... Pero el cinco está más allá, pero el cinco está más allá, pues, falta el cuadrado verde, ese. ¿Más? Está... Porque hay una iglesia primero, después vienen unos árboles, después viene un cuadrado verde y la número cinco está más allá. Ya, entonces. En la tercera estrada, gira a la destra. A la destra. Ya. Y, ¿cómo se dice camina una cuadra más? Gira a la destra. Y frente a la iglesia, le ponemos, frente a la iglesia, ¿cómo se dirá? A ver, pero... La quiesa. En fronte de quiesa, ¿o no? Y frente. En fronte de la quiesa. En fronte. E davanti a la quiesa. E davanti. E davanti. E davanti. E davanti. Alla, con doble L, a la quiesa. Ya. E davanti a la quiesa. Se encuentra... Citrova. 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 Oye, que nos demoramos. Citrova, Piazza, Venecia. A davanti. Citrova, Piazza, Venecia. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Hoy vamos a ir a trazar, parece. Yo estoy medio alente escuela. No, no importa. Ya, las cinco. Después las revisamos. ¿Cuál es las cinco? Ya, las cinco de la... La del Vitoriano. La del Vitoriano. Ah, ya. Ahí del seis. Tenemos que llegar al punto uno. Ah, de la Patria. ¿A dónde partimos? Muy lejos. Ah, pero vamos por fuera. Vámonos por fuera, claro. Vía del Corso. Vía del Corso, Vía del Corso, Vía del Corso. Doblamos en Vía del Murate y llegamos a la Fontana de Trevi. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Entonces, ya, tenemos aquí, a ver, un, per favore, ya, tenemos que poner, mi scusi signore, otro, otro, a ver, ya, mi scusi signore, o señora, dove, mi scusi signore, ya, dove, si trova, dove, si trova, la Fontana de Trevi, Fontana de Trevi, Fontana de Trevi, ya, entonces, ¿dónde estamos? En el sur. De San Vitoriano, Vitoriano. Ah, estamos en San Vitoriano, ya, ya. Bo, Camina per, o pasa por la Piazza Venecia, camina. Camina, croche. Croche. Cruzar, cruzar, o pasa, cruzar la Piazza Venecia, camina per la, per la Vía del Corso, camina per. No, pero pasemos primero la Piazza Venecia, ah, no, ¿dónde estamos? En el 6, en el 6, en el Vitoriano, tenemos que pasar la Piazza. Ya, ya, ya. ¿Cómo se pone mal? Croche. ¿Croche es pasar? Cruzar, es croche, o no, si no me equivoco. A ver, cruza, pero te déjame mirar. Croche, tienes razón. Croche. Croche. Croche, la Piazza Venecia. Croche. Pronte. No. Croche, la Piazza Venecia. Nos faltaban dos. Anda. Venecia. Camina per Vía del Corso. Camina, ¿sí? Sí. Camina per Vía del Corso. El Corso, espérate, por, Corso por, eh, siempre. Siempre drito, siempre drito. Pero, tres, una, dos, tres. Ah, no. Camina del Corso. Ya, diez minutitos más. Dos, ya. Tres, cuatro, cinco, cinco. Cinque. Sí, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Cinque. Por, son. Per, cinco. Estrada. No. No cuadras, cuadras, cuadras. Cinque. Estrada. Cuadras. Cuadras. Ya. Per. Per. Camina. Per. Per. Pía del Corso. Per. Cinque. Estrada. Cinco. Cinque. ¿Cinque estrada? Sí. Cinque estrada. ¿Por qué plural? Sí, no. Estrada. No. ¿Por qué plural? Gira a, a la, Gira a destra. Fino. Fino. Fino a. ¿Cómo se llama la calle? Espérame. Fía del Murate. Fino a. Fía. Fía del Murate. Del. Murate. Murate. Del Murate. Ya, aquí tenemos que decir cuántas, cuántas cuadras también. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres. Murate. Chira. Fino a la, a la, a la estrada. A la, a la terza estrada. A la terza estrada. Si troba. A la terza estrada. Si troba. Fontana de Trevi. De Trevi. A la terza estrada. Es que teníamos que haber dicho que gira a la destra. La quinta estrada. Mira. Gira a la destra. Porque le puse cinco estradas fino. A vía del Murate. Gira. A la destra. Estrada. Camina. ¿Se dice camina? Sí, camina. Con dos M. Camina. Camina. Per. Tres. Estrada. ¿Cómo se dice llevas? A ver, ya me perdí. ¿Tú lo dijiste? Tú lo dijiste. A la terza. Espérate. ¿De dónde íbamos? A la terza estrada. Tú dijiste una palabra. Vino a la vía del Murate. Y a la terza estrada. Vino. A la terza estrada. Si trova. Si trova Fontana de Trevi. La Fontana de Trevi. Ya. Falta la F. A ver, léemela. ¿Cómo te quedo, por favor? Yo le puse. Scusa, por favor. ¿Dónde se trova la Fontana de Trevi? Ya. Croce la Piazza Venezia. Camina per. Vía del Corso. Per. Cinco estradas. Fino a. Vía del. Mandate. Murate. Gira a la destra. Gira. 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 Gira a la destra. Y camina. Per. Tres estradas. Si trova. Fontana de Trevi. Gira a la terza estrada. Le puse. ¿Y tú? ¿Cómo pusiste? No, pues yo puse. A ver. Del Corso. Quinta estrada. Fino a. Vía del. De la. Murate. Gira a la destra. Cuando llegue. Hasta la. De la. De la. De Lemurate. La vía de Lemurate. Tiene que. Girar a la derecha. De ahí. Camina a tres cuadras. Ya. Yo le puse. Gira a la terza. Estrada. Si trova la fontana de Trevi. ¿No? Diría que como está. Como que está en frente. Está malo. Si no. La vía del. Tendríamos que podía hacer. Que a la. A la sinistra. Sin contra. En la. En. En. A ver. Si trova. Font. A ver. En la terza estrada. En la terza estrada. Si trova la fontana de Trevi. ¿No? Si. Ya. Hagamos la última. En fronte de. La vía San Vicenzo. Podría ser que se va a ver. Ya. No importa. Ya. Silo. Ya. La última. La terza de Venecia. Al siete. De Venecia. Al siete. Ya. A Santa María. A Racoel. ¿Por dónde lo tiramos? Por San. No. Ya. Por el día del teatro de Marcello. Ya. Empecemos muy. Ya. A ver. Buen giorno. Hay que ser bien. Buen giorno. Buen giorno. Pugunta. Dove si trova. Santa María. ¿Ahí? Santa María. Aracoeli. Dove si trova. Santa. María. ¿Ahí? In. In Aracoeli. In Aracoeli. Aracoeli. A ver si encuentran. Ya. Entonces. Ah. Ya. Cinco. Estamos acá. En Casa Venecia. ¿Por dónde decías tú? Ir más fácil por Vía del Teatro. Vía del Teatro. Y más fácil que Vitoriano. Sí. Ya. Sí. Entonces. Lo mismo que antes. ¿Cómo era? Cruza? Crocha? Croce. Croci. 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 La Piazza Venecia. Claro. Croci. 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 Andrà a la destra, per la destra, per la destra, per il teatro Marcello, ahi. Vittoriano, però... Ah, no, per Vittoriano. Fino, a la destra, per Vittoriano. Si, per Vittoriano. Ya. Fino, fino, che sia, sta, via... Fino via del teatro. Teatro... Teatro... Di Marcello. Del teatro di Marcello. Marcello. Y fino, ahi, ahi, tienes que girar, girar a la sinistra. Girar a la sinistra, correcto. Girar a la sinistra. Eh... Cómo se dice... Continua... Finistra. Cómo se dice... Eh... Que... Porque ahí es como una escalina, ¿verdad? Ah... Sube, su... Oyu... Y sube... A la sinistra... Tú puedes... Encontrar... La Santa María del... Alecohele. Y en ninguna otra calle más, pues... Ya hay unas escaleras ahí. Claro. Entonces, ahí... Ah... Girar a la sinistra. Ponemos ahí. Subar aquí, ponemos girar a la sinistra... Y... Vas a encontrar una escala. Debes subir. Subito. No, no es subito. No, no es subito. Pero te deja. Subir. Caritaramiento. No hay que ver. Subir la escalera. Salir el escale. A destra. No. A sinistra. Girar a la sinistra. A ver. Girar a la sinistra. Y continúa. ¿Cómo se dice continuar? Para subir la escalera dice salir el escale. Escala. ¿Cómo se escribe? ¿Vilancia? No. Aquí dice... Yo le puse en el traductor subir la escalera. ¿Y ahí? Dice salir el escale. Salir el escale. Ahí está mejor. Yo puse dovi trovi. De donde encuentras yo le puse. Y dovi... Ya. Entonces... Girar a la sinistra. O fino... O al final de la escalera. No sé. Por fino a la escalera. Puede ser. Ya. Girar a la sinistra. Fino a la escalera. Y continúa... No. Fino a la escalera. Sí. ¿La escalera se escribe tal cual? La escale. La escale. No. La escale. Es como la escala de... de Milano. De una ropa caliente acá. De una ropa caliente acá. La escala de Milano. Pero se escribe S-C-A-L-E. S-C-A-L-E. Escale. Escalera. Escalera. Vino a la escale. Dove debe... ¿Listas? Debe subir. Debe subir. Debe subir la escala. Saliré. ¿Están listas? Un segundito. Tira la sinistra. Continúa. Gracias. Durante. Debe subir. Debe subir. Debe salir el escala, fino el escala. Debe, DEBES salir. Debe, DEBES salir, DEBES salir. Debe salir a la sinistra. E continúa. Continua Deve salir la escala Dice Continua Finque Non vedi No, debes subir la escala y si trova Pero a la izquierda tenemos que poner que a la izquierda se encuentra la escala Porque está en la izquierda de la calle Ah, claro Deve subir la escala y ir a la sinistra Claro, ir a la sinistra e continúa per la estrada estrada fino a la escala la scale a sinistra que está en la izquierda no sé Ahí nos quedó muy enredado esto ya Sí Sí No era tan difícil lo hicimos muy difícil nosotros Fino vía del teatro del Marcello y ahí era ir a la sinistra Sí y continúa y final escala ahí nada más Sí Aquí yo lo puse y continúa la estrada fino a la escala Y debe subir la escala y ir a la sinistra Ahí nomás hasta ahí Ya Ya Listo Ya Yo la 2 y la 3 me la salté porque tú la habías hecho yo ahí me No me importa Ya yo las digo un poco voy a ver no están tan buenas pero me faltaron todo eso por favor Cuse señora La 2 Cuse La 2 es de la de la ¿dónde está? De la 2 a la 3 chuta Ya a ver La 2 Las 2 Hay que llegar de las 2 de la Piazza del Cardinale vía de la otra cuadra a la Piazza del Piloto Ya Ya Dove Citrova ¿dónde es? Piazza de la Pilota Si Ya ahí voy la Piazza de la de la pilota Ya Ya Vamos a traer de vuelta al otro grupo Punto Ya Es cerquita Ya Escucha Señora ¿Cómo puedo arribar a Santa María y a ¿Cuál Salud Ana María Ya Dale ¿Volete riposar un po'? ¿Volete una pausa o facciamo subito? Si la pausa Ok Allora son mezzogiorno 38 a mezzogiorno 50 12 minuti Ya Si 12 minutos de pausa Ok Ok